Abbiamo in noi quattro vite successive, incastrate l'una dentro l'altra. L'uomo è un minerale, perché è formato da sal, acqua e da sostanze minerali. L'uomo è un vegetale, perché come le piante si nutre, respira e si riproduce. E' un animale, in quanto dotato di conoscenza del mondo esterno, di immaginazione e di memoria. Infine, è un essere razionale, perché possiede volontà e ragione. Abbiamo in noi quattro vite distinte. E dobbiamo quindi conoscerci quattro volte. Abbiamo in noi quattro vite successive, incastrate l'una dentro l'altra. L'uomo è un minerale, perché è formato da sal, acqua e da sostanze minerali. L'uomo è un vegetale, perché come le piante si nutre, respira e si riproduce. E' un animale, in quanto dotato di conoscenza del mondo esterno, di immaginazione e di memoria. Infine, è un essere razionale, perché possiede volontà e ragione. Abbiamo in noi quattro vite distinte. E dobbiamo quindi conoscerci quattro volte.